più letto ah ciao siamo Thomas e Matteo io sono Matteo e vogliamo fare questo piccolo video per dirvi che è la terza volta che stiamo provando a registrare il nostro RP e quindi questa volta qualsiasi cosa uscirà vi permettiamo che vi faremo sentire o faremo uscire qualche video e quindi faremo una serie di video diari possibilmente e quindi vorrei dire che le cover sul canale saranno un po' a rilento comunque dato che di fatto non abbiamo ancora niente in mano facciamo vedere i gear che più o meno useremo per qua registrare le chitarre e poi vedremo come organizzarci per la voce batteria basso e tra l'altro abbiamo trovato l'agente serie con collaborare quindi speriamo di poter registrare una batteria per la camera e non usare un computer e quindi adesso vi facciamo vedere il nostro gear questo è importante quanto 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 è importante io invece sono vestito come uno stranzo non stai le chitarre ho dobbiamo fare se io li capisco perché grazie questa è la mia chitarra che userò principalmente questo EP che ha dei marzio Iron Horton frittabili principalmente le corde ho messo delle Erribol del cobalto che dovrebbero fare di più l'ho messo dentro in un'axe in un corsetto che si chiama Boops che rende molto il concetto che dovrebbe essere un Mark 5 dentro una cassa mesa io invece ho preso una crana da South e adesso arriva togata che ora accordo quindi questa parte l'era anche questa tagliata io uso un po' da HD Pro e nel preset c'è dentro un thread plate che è il simulatore del correctifier e non vi dico come si chiama il preset e suonava bene quindi io ho cambiato adesso le corde sono delle normali Erribol dal 0,10 qua si suona qui